I temi di Expo che riguardano l'alimentazione sono tutti quanti importanti, è molto importante mangiare bene, mangiare sano e fare sport sicuramente, io lo faccio e penso lo debbano fare tutte le persone, mangiando sano si riesce ad avere una vita più equilibrata, questo non vuol dire che ogni tanto qualche sgarro, qualche eccezione non si possa fare, soprattutto educare i bambini a mangiare sano, è molto importante. Avendo girato tanto il mondo a noi non manca niente, manca pochissimo, nel senso che tutti ci invidiano quello che abbiamo e noi non ci rendiamo conto di quello che abbiamo, dal cibo alla moda, alle macchine, ai paesaggi, io ogni volta che vado in posti diversi non vedo l'ora di tornare e sento anche gli stranieri che decantano tanto quest'Italia. Allora, il mio cibo preferito è un piatto che viene dalla Sicilia, me lo faceva sempre mia nonna che era siciliana, che è la pasta con le melanzane, che è tipo una parmigiana con queste melanzane fritte, quindi una roba proprio sana. Allora, un aggettivo, una parola, opportunità. L'Expo per me, secondo me, è un'opportunità che abbiamo noi che l'Italia ha.